Non sono mai stata in un museo, ma però dalle parole che hanno detto e dalle foto che ho visto mi sono molto piaciute. Sono sicura che dal vivo mi piacerà di più. Non vedo l'ora di andarci. A me mi piacciono tantissimo gli animali, ma non mi piacciono le persone che dicono che gli animali non possono ragionare e pensare. Io ho avuto un cane che imparava molto in fretta e tra noi si era legato un legame molto forte. Non è vero che gli animali non hanno sentimenti. A me non mi piacciono i cacciatori perché i cacciatori, per esempio i leoni, perché i non hanno colpa quando fanno male alle persone o quando mangiano le persone. Perché i leoni penso che loro si difendono così. Se i cacciatori o se gli uomini non si avvicinano a loro, loro non farebbero male a loro. Per esempio un bambino se nascesse in una foresta sarebbe uguale come i leoni perché sarebbe cresciuto con loro o avrebbe mangiato quello che mangiano loro. Anche gli animali hanno un'anima. Gli animali non possono lavorare, ma però vanno a caccia. Gli esseri umani fanno delle cose con la pelle degli animali che non sono utili da fare, ma se avrei la possibilità lo impedirei perché questa è una crudeltà. Grazie a tutti.